Da qualche giorno nei supermercati mantovani sono arrivate queste sembrano patatine normali, in realtà non lo sono sono chips di mais non fritte con farina di insetti andiamo a vedere la composizione farina di mais, farina di lenticchie, 15% larve di tenebrio molitor, larva gialla della farina essiccate in polvere, 10% olio di girasole e aromi naturali andiamo ad assaggiarle si presentano come piccole palline come vedete queste sono al gusto pizza il sapore è molto salato come tutti gli snack di questo tipo però non sono male, non sono diverse dal resto di questo tipo di snack spesso e volentieri si è discusso in questi anni sul fatto che proprio gli insetti possano diventare in futuro una parte dell'alimentazione umana perché forniscono un grande apporto proteico ero scettico perché sinceramente un po' di dubbi ce li avevo in realtà al gusto non c'è davvero nessuna differenza con gli altri snack che non c'è davvero nessuno